Musica Musica Cosa sta mangiando? Un panino con un poccino cotto di cartello E frittato di maccheroni della madre di Chiara Grande pasti Non è la mamma di Chiara Patrizia Ah avevo capito, grande Marti Ah no no no, grande Pati Salutiamo, intervistiamo gli altri componenti Signori, stesso bassa voce Ci può dire qualcosa su lei La sua partenza, non si preoccupi anche Loredana Ma non mangio il progetto crudo Dopo il suo giorno Mi fa il grasso tra i denti E' la mitica frittatina di maccheroni Della mamma di Chiara Stupenda, ottima Vedi finita Signorina, nella direzza interessata Chiara, sua madre ha preparato Frittatine per tutti Cosa ne pensi al riguardo? E' stata buona La frittatina o sua mamma? Ma non soddisfacente, anche mamma Mamma che non mi calcolava Però ho qui Questo fantastico panino Potrei finirlo Potresti? E' della signorina Fontana Rosa? Signorina Fontana Rosa, un messaggio Ma io tengo pure quello nostro Volei dormire in Grecia Oh no E' un mostro Vediamo a passavoce I ragazzi dietro Managgia Managgia, è matrimonata Sì Ma mette legale Tutto con lui Un po' parte la nostra ascina Poi parte secondo me Lascio il Domenico come un po' vera sociale Ma si avrà visto No Vabbè Ma c'è anche Cristiana Ve la vorrei presentare Ehm Ciao Sono quella che ti prende sempre Ci sarà molto poco in questo viaggio Ma va bene così No, non nel viaggio In questa ripresa Vabbè Ok, grazie Ciao Buoglia Buoglia Con vergogna Buoglia 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 E il polman di Pari Purà Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.